Caro, Alessandro, Beppe, Franco, il DJ e tutte le ragazze, ragazzi questo cano è da agosto che lo stiamo costruendo anche Tommaso, Italo, ce ne sono così tanti che me li dimentico, io, Marina Contro Perfede, per favore, non schiuma e non stai desiderando grazie se ci fosse qualcuno che vuole fare una vendicata può fare Silvia 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 Silvia